Cosa stai facendo? Ma perlutata, con la lini gialla che ci piace tanto. Ma sul canale non l'hai pubblicata. Sì, 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 sì. No. Non ho? No. Ma come, è il nostro abito preferito? E se andiamo a frullare? Patate e zucchine senza buccia. Poi besciamella. Qua c'è un po' di brodo. Ci impegniamo. Stay tuned. Patate. Ragazzi, devo dire che è un po' impazzito.